amici bentornati qui su mandragaming il canale più suicidante di tutto il tubo esiste questo termine lo so come avete visto insomma la nostra terza puntata è finita in una maniera un po particolare vediamo adesso se riusciremo a come dire a superare la signorina che c'è dietro questa porta magari con il coltello proviamoci a ecco era quest'altra beh aspetta che dovevo risalare bravo mandra vai sì unlocked c'ho due pistole buone ma forse è meglio allora muniamoci di quest'altra pistola forse è piena questa non è piena questa un po fixer va bene va bene ok alla io vado col coltello raga così la freghiamo ok prendiamo questo ci ricarichiamo una pistola ma andremo col coltello ce la faremo ah ah non mi freghi sto giro bella amica non mi freghi sto giro mi fai schifo solo a vedete però ti è ti è oddio 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 ah no rimani giù eh non te muove eh sta lì cellulare così possiamo non c'è nulla qui ok qua nemmeno io abbasso un po perché sennò mi salto come un grillo ma forse salto uguale chi c'è là eh 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 io vedo qualcuno eh t'ho visto sto giro bello e adesso io ti sparo eh ma così non vedo niente allora tacci tuo quanto sei brutto ehi è un'altra di quelle che te fanno suicida molto te frego io ehi qua ehi chi è non vedo niente però non vedo dai fai schifo pure al buio pure se non te vedo mortaccio ma come fanno a inventarsi queste cose mi deve comparire così questa chi è chi è chi è becca questa che schifezza via via muori muori tu quel coso lì quello proprio mostruoso infernale oserei dire cos'è questo rumore tipo di oh mio dio sta per succedere un casino epico che tu neanche ne hai la fottuta idea oddio dai smettila questo chi è che ero vista una corda per impiccarsi due sono meglio di una oddio questa è la stanza degli interrogatori figa tu pensi che io entri lì dentro ah bello te sbagli proprio io non mi ci avvicino nemmeno là ah via via spara spara chi è chi è eh ma se tralascio qualcosa di importante io mo che vado lì io so sicuro che succede qualcosa di brutto se entro qua ne so sicuro troppe cose invitanti ci stanno vedi le munizioni no questa è la la siringhetta oh allontanate da quella che roba suicida hai preso un videotape find a videoplayer bene ok non mi è successo niente sono felicissimo di questo grazie raga io non vedo un tubo devo per forza usare il cellulare allora io sono venuto da qua giusto quindi questa qui io ho locked the door the lock io ho locked the lock ma che sta a dire vabbè ah questa era lì sì era l'entrata iniziale che bene perfetto possiamo anche tornare indietro allora da lì ero entrato forse da qua la porta non si vuole aprire pure questa anzi vuole aprire e allora eh un mangianastri dove lo trovo oddio dovrei cercare un mangianastri dai su no ma non è possibile sta cosa dove lo trovo un mangianastri qua cioè non mangianastri o si eh no ma quello è videotape questo qui è solo per le cassette questo qua per salvare non credo abbia un'altra utilità sto cosa videotape un po' di sangue eh oh no I need a videoplayer to view it to view it vabbè devo tornare indietro sicuramente devo tornare indietro fa tutta sta strada dovrò tornare aaaaa porca puttata no non ti spara oddio aspetta cambia 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 i mortacci mia vaffanculo vaffanculo aiuto allora amico mio devi un attimo darti una piccola dose di morfina per resistere al dolore ok ma ha fatto piena paralisi sta maledetta mostriciattola schifosa uno ce l'ho ancora dei proiettili no non ce l'ho più allora vado in giro col coltello e di cellulare allora se se c'è un mostro che prima non c'era vuol dire che io sto andando dalla parte giusta qua non c'è niente qua non c'è niente qua non c'è niente andiamo via parapapapapa parapapapa 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 scusate raga tema è un adelizio parapapapa Mi sei saltato da solo Vabbè Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa Mi ha fatto pian corpo prima E che mi fa rientrare qua? Ma no, mandra 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 Svegliati E' tutto un incubo Io so sicuro che devo tornare indietro Perché in una di quelle vecchie stanze poi io l'avevo vista una televisione con credo un mangianastri non vorrei sbagliare non vorrei sbagliare cos'è? sento qualcuno o forse no? ma questo che era? il brutto piano la cui ero? brutta? via perché carichi così lungamente? che cosa devi caricare? 7 miliardi di mostri? non vedo un cavolo ah sì quasi ora ricordo no che ricordo? ma ricordo mica sta cosa bene bene adoro queste porte che non si vogliono aprire hanno loro perché? e cioè che non devono essere aperte questa si apre ah sì 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 sto pezzo me lo ricordo ok sì qua c'era il culo con una chiappa sola e aspetta però se io torno qua sotto no? e scatto come se non ci fosse un domani no? e torno di qua e salgo le scale e te pareva niente devo tornare indietro sicuramente in una di quelle stanze c'è c'è un videoregistratore certo che è andata ancora con i VHS insomma cryo fear aggiornati oh cioè si è addobbato da solo mentre correva raga è inciampato ok ma bando alle ciance saliamo qua chi è qua? chi c'è? nessuno entriamo qua sì si può entrare bravo entriamo qui mi piace armiamoci di coltello questa è chiusa questa è chiusa eccola vedi eccola qua oh non scherzate non famo che poi comparimmo dopo eccetera eccetera I can videotape with this bravo vedi ce l'ho trovata subito vai hai inserito il videotape e mo? non mi fa scherzi chi è questo? quello stesso che mi ha presa a pizza dopo che mi ha investito è stato lui a investirmi sicuro che faccia tutto eh eh non gli è mena no no che gli dai che gli dai ma che gli dai adesso no mo mi ci avvicina lo schermo e mi farà al prossimo sei tu 4729 4729 me lo dimenticherò sicuramente 4729 porta via pure la testa che mi fa schifo ti ringrazio escape the apartment secondo elevato oddio cioè fuggi dal dal con l'ascensore devi andare via con l'ascensore raga devi andare via con l'ascensore sarà impossibile sarà impossibile andarci lo so succederà qualcosa di orribile invece no eccolo andiamo vai ma come è bloccato da qualche parte scusa eh 4729 ma che vuol dire che è bloccato da qualche parte scusa ma l'ho usato prima ma non ti ricordi che è qua ah sì qua sento qualcuno è con le catene oddio mio l'hanno chiuso proprio con le catene e soprattutto ma perché ci voglio entrare ma a me me ne frega niente no 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 non riesco a chiamare l'ascensore porca miseria ma l'avevamo preso prima l'avevamo eh sì da qua delle schibate 4 sì sì eccolo 4 7 2 9 ma via dai ok grazie esci da questa cosa e adesso succederà l'impossibile io già lo so già lo so già lo so raga già lo so succederà l'impossibile mostri nuovi bravo scendi e vai via da questo palazzo vai via da questo palazzo fuori ma senza proprio discussioni io ti ringrazio grazie per questa bella gita è stata molto bella what hell what is this place cos'è questo posto insanguinato ogni sbarra cioè ogni sbarra tutte le porte io non ho nemmeno un proiettile ho un coltello bravo ecco le proiettili carica subito ok qua niente qua niente sento dei lamenti terribili sento dei lamenti terribili più vado giù e più c'è sangue cos'è sto lamento terribile oppure terribile bene non c'è nulla ottimo sento qualcuno che sta tipo tremando dal freddo robe varie so io che sto a tremare ma so io che sto a tremare ma no cioè questo mi ha dato 30 proiettili raga senza fare nulla mi ha dato 30 proiettili mi ha dato due clip da 15 vuol dire proprio che adesso incontrerò il diavelo con la E il diavelo in persona e mi mangerà vivo e sì anche perché sto scendendo negli inferi cioè sarà l'ottavo piano che mi sto facendo a fette dopo un po' anche pesa pure perché me le torrò fa anche in salita questi piani immagino in seguito da chissà quale orrida creatura oh allora mi avete stancato di fare tutta questa strada ecco siamo arrivati siamo arrivati oh cos'è sto rumore non mi non mi non mi di avvicinare mi sto cagando sotto bravo fammi salvare prima bravissimo nel caso in cui dovessi morire grazie ora mi posso avvicinare con più tranquillità forse sono gli stessi lamenti che ho sentito dietro la porta piena di catene è beh molto bello è rincuorante grazie grazie amici che mi siete vicini quanto vuoi andare tu oddio la motosega un motorino no no oddio slenderman versione braccia lunghe con censone che scemo che mi sta attaggando tutto che schifo c'è i spilli fa l'acopuntura questo è per quello che è nascito fuori così oddio oddio spara 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 oddio spara 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 mira bravo aspetta aspetta fermate così aspetta tiè 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 mi vuole mi vuole conficcare non c'ho più proiettili non c'ho più proiettili oh tacitura fermate staz bravo ah c'ha l'occhio qua dietro che è qua tiè oh scherzavo amico mio scherzavo non c'ho più proiettili è finita raga questo lo devo segare a forza te cortellate non gliela farò mai ma te ne vai brutto oh ma che sei scemo ah schifoso mamma mia quanto sei alto eh io sono un nano fatene guarda che ti faccio il dribbling eh tiè becca tiè tiè al bobone tiè che schifo mi fai schifo solo a vedere sei pure nudo sei ma tu t'hanno costruita oh e poi perché ti hanno dato una moto sega cioè non sei la persona più indicata ah io oh va bello ma che non vedi come te sto girantorno tiè becca tiè 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 ah non mi di avvicinare raga lo sto uccidendo di solo coltello I am the fucking number one vai e dai lisso lisso vai vai ragazzi che abbiamo preso di mestichezza questo boss si chiama sour mi è partito pure lo sputacchio no 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 vedi ma sono squattata e sono morto sei senza cuore sei assolutamente senza cuore sappilo coltello ci armiamo di coltello ragazzi di nuovo e sto giro ce la faremo ce la faremo no 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 non mi puoi toccare allontanati ripeto non sono commestibile e puzzecchio anche un po' questo te lo dico in tutta onestà eh 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 è una bella sveglia d'ho data oddio è uscito fuori incazzato mi ha fatto sto sprint mi ha fatto oh non me ti avvicina non sono commestibile quante volte te lo devo dire è inutile che mi tagli sono anche infrangibile sono intagliabile sono inflessibile vattene fuori dalla mia vita che sei inutile ammazza doppio attacco gli ho fatto che figata ma come ho fatto a fare sta cosa non lo saprò mai oh oh raga si è alterato si è proprio alterato sto giro si è proprio alterato ti prego no 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 scherzavo 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 non mi incastrare non mi incastrare non mi incastrare non mi incastrare sei difficile sei difficile sei molto difficile sei troppo difficile sei troppo difficile ma no non voglio uscire stasera non mi non mi puoi convincere con questi metodi da quattro soldi no e dai no non gli ho fatto niente ho finito i proiettili raga ho finito i proiettili ho finito i proiettili senti la cena galante la facciamo un altro giorno un altro giorno te lo prometto è che adesso oggi ho degli impegni importanti ho degli impegni importanti scusami anche tu devi devi riuscire a capire le mie problematiche dai è mutato e dai su te lo tolgo te faccio pure un favore te faccio oddio 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 scatta sempre di più è sempre più veloce oddio non mi taglia non mi taglia che poi devo ricominciare tutto da capo è un problema qua eh scusa eh quante volte ti ho affettato pensa a quelle notti romantiche mentre ti tagliuzzavo tutta la schiena e tu mi dicevi amore e dai gli manca un pezzetto raga gli manca gli manca una cortellatina fatta bene una piccola cortellata in grande amicizia amico mio ti ricordi quando eravamo grandi grandi amici e poi un giorno sei ti sei trasformato e sei diventato poco amichevole e ti è bravo no ma no ne potiamo parlare chi è eh vomita eh c'ha ragione no non dovevi svenire non dovevi svenire sei alla merce di chiunque così ragazzi miei ragazzi miei che cos'è sto gioco che cos'è sto gioco una casa mezza ordinata un flashback in tinta black and white così chi è questo? chi siete? non sono uno di loro relax chi sei tu? non sono nessuno non dovresti essere qui è veramente pericoloso amico mio non è colpa mia aspetta perché stai indossando una maschera da gas? sei stupido o cosa? vuoi trasformarti in uno di loro? eh? non posso fidarmi di te non so se tu sei reale o meno lasciami da solo cioè tu ma che cazzo lo dico io? ecco chi era lui? nessuno? capitolo dure chi era quel dottore? cioè capito lui era un dottore con la mascherina e lui mi fa lui a me eh io non mi posso fidare di te perché non so se sei reale o meno cioè tu me ti presenti così io sono svenuto chissà dove chissà come ma dimmi te regà io ovviamente non lo so mi dà lui dello strano a me vabbè ok abbiamo una pistola carica questa porta è chiusa meglio trovare un'altra via insomma ragazzi oh cos'è sto schifo? ma che cazzo? ma che cammini al contrario tutto mi dai il tuo martellino? no che brutto che sei mezzo bruciacchiato pure oddio perché se può entrare? io preferisco che morte au io ce l'ho data un'altra sparata così tanto per essere carini e gentili chi c'è qui dentro? nessuno nessuno no non c'è solo solo dei pacchi per fortuna solo dei pacchi qui il nostro amico non c'è oddio pure questa se apre chi è? sento un rumore strano ah no erano solo le lavatrici e là usciamo tanto non c'abbiamo niente oh oh oddio ho finito i proiettili aspetta aspetta dammi il tempo di cambiarmu grazie oddio attacchi tu che schifoso ma che schifo sono senza volto questi oh datemi dei proiettili ho finito ho finito le mie munizioni del vino raga pubblichiamoci come se non ci fossero domani almeno oddio ho caperto a porta quell'altra ok è nero sicuro cos'è qua? no sicuri eh si 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 ok andiamo avanti io non ho paura di voi sappiatelo ricordatevelo rimembratelo ma che sto boh uh chi è? piove non mi piace che è sta storia qua? macchina della pulizia eh l'interno è distrutto non stanno andando al lavoro bene oh oh oddio tre contro uno non vale schifosi ah ah eh non venite tutti insieme questo c'è il cappello da babbo natale ahia nottaci ha finito ah 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 questo è più incazzato dell'arri ma come cavolo me stai a menare un altro ok disinfestazione disinfestazione esseri umani che camminano al contrario da per terra con una schiena rivolta verso il basso per chiamare un numero col tuo telefono premere Z ripet magazine article allora la maggior parte del testo è sporco per leggerlo però sembra che sia un argomento sulla depressione ti suona familiare? non non ritardare chiama il 5 4 3 2 1 4 oggi allora 5 4 3 2 1 4 allora 5 4 3 e allora aspetta 5 5 4 5 5 5 4 3 2 1 4 allora vedi che all'inizio c'avevo ragione a dichiarare presto sto ragazzo o chissà allo allo who is this segui la via delle inequità l'oscurità del tuo nuovo maestro cosa? il numero ricordati il numero e tu potrai procedere ma che cazzo stai parlando? ho bisogno di aiuto per favore 5 2 4 7 oh mio dio aiutami ragazzi il 5 2 4 7 non era già il codice che abbiamo usato per l'ascensore si quindi sto numero comunque è importante per un motivo o per un altro e soprattutto l'oscurità non sarà mai il mio nuovo maestro noi siamo dei ah e dai 5 2 4 7 e dai no l'abbiamo già usato due volte però utilizzando questo codice è come se io stessi seguendo la via oscura ma se la via oscura ci aiuterà a uscire fuori da questo merdaio perché no usiamo il cellulare che non si vede oh chi è? scale rotte oddio una sega elettrica una sega elettrica no 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 io non scendo là eh salgo guarda preferisco salì preferisco salì fidate non c'è niente chi è che si avvicina tutu che è sta cosa No, 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 no Oddio, oddio, è un piccolo cieco, è tutto chiuso Devo scendere per forza là sotto No, non voglio Aspetta però Lì siamo entrati Qua è chiù E sali, niente Devo scendere per forza, raga Devo scendere per forza Te prego, te prego, te prego, te prego Oh, oh, oh Tocci tua Oh, la motosega Guarda che faccio fare una brutta fine Tutto lo dico Io ti ho ucciso, tu non esisti più Non sei più reale Oddio Non ce la faccio più, fatemi scelta qua Non me voglio più vedere, ne senti Invertebrati schifosi Non c'è nessuno, vero? Non c'è nessuno Oh Edda sta motosega, eh Sempre più in basso, raga Sempre più in basso Oddio, senti che brutto rumore Fanno i miei passi E io dovrei scendere qui sotto Come scendo? Così? Ah! Sta buona, eh Scala, rimani lì Rimani là Che è qua? Sì Sento qualcuno che sta a camminare in mezzo all'acqua E tu pensi che ci scenda adesso? No, no Ma no, 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 no Ragazzi Amici miei Lo vedremo nel prossimo episodio Perché non me la sento proprio Perdonatemi Ho già fatto tanto oggi Fidatevi Ah! E quindi cosa dire ragazzi Io spero che il video vi sia piaciuto Spero anche al tizio Questo qualche tizio Tizia Mostro Abnorme Che sta camminando dentro le fogne Sia piaciuto anche a lui questo video E quindi Io mi raccomando Come sempre Mettete un bel pollicino Vedete quanto è piccolino Un pollicino Un click Una cosa tranquilla Iscrivetevi Se vi piace il canale Se vi è piaciuto il video E io ringrazio ancora tutti Perché mi state seguendo in tanti E vi ringrazio di questo E ragazzi Una buona giornata O una buona nottata nelle fogne Vedete un po' voi E vi rimando al prossimo video Ciao